Detto dello scorso anno, prima ancora il triplete, tricolore, Coppa Italia e Supercoppa nel 2012. Il miglior risultato della loro storia ed è un percorso sempre puntato sulle giovani promesse, come in questa stagione, nel rush finale della regular season. Alessia Orro, palleggiatrice, Vittoria Piani opposto, 21 anni e tanta voglia di emergere. Sono due dei punti di forza della nuova e-work busto arsizio di Marco Mencarelli. Questo busto vale tanto, l'abbiamo dimostrato. È molto giovane, direi, è molto grintosa e con la voglia di lavorare e di giocare. È sempre stato il mio sogno arrivare a bustar sizio, sinceramente. Puntiamo in alto e niente, io qua con Mencare riesco a migliorare, cresco e so che diventerò una grande atleta. Alessia Orro, gioia di tutta la sua Sardegna, guida la regia delle farfalle, e ha tanta voglia di tornare protagonista. Cosa significa lavorare con Marco Mencarelli? A Marco lo conosco da tanti anni, mi ha cresciuto lui, quindi c'è una certa sintonia in palestra. E niente, sono felice che si è andando tutto bene. Sorriso, grinta, voglia di fare, ma chi è Vittoria Biani? È una ragazza abbastanza solitaria, che però a cui piace fare tanto festa. Vediamo, ha molta grinta, vuole sempre strafare, richiede troppo a se stessa molto spesso, però molto spesso ha un bene. E, beh, credo che sia simpatico.